Cosa vedrete adesso in questo video? Un po' di città. Siamo a Salanta con lo scooter. Adesso si parte. Tutto e tutto. E non parlare poi dei pastorati, di bar, di pasticurio, di aschetti, di aerea. Ci siamo andati a fare. Seguiamo passeggiando a Salanta. Ci siamo andati a Salanta. Quindi forse bene il servizio. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.